come operatori sanitari vogliamo aiutarti ma è importante che ci aiuti anche tu evita contatti ravvicinati mantenendo sempre la distanza di almeno un metro indossa correttamente la mascherina anche in casa dei tuoi cacari lavati spesso le mani evita le strette di mano e gli abbracci evita i luoghi affollati e non creare assembramenti se sei a maggior rischio esci solo se necessario e nelle ore a minore affluenza ai sintomi simili influenzali resta a casa e contatta il medico di medicina generale proteggi gli anziani fai loro visita solo per il tempo strettamente necessario e utilizzando le precauzioni manteni la fiducia nel nostro sistema sanitario e segue le indicazioni delle autorità sanitarie grazie